19 maestro di vino e di bestemmie vincenzo fu chiamato da uno del gruppo degli amministiati che stavano al buffet della stazione vincenzo non mi riconosci era romolo un compagno d'infanzia perduto di vista era la vigilia di natale vincenzo lo portò a casa sua gli disse vieni siamo una famiglia modesta ma la vera amicizia deve scintillare quando se ne ha bisogno mangiarono e romolo dormì su un lettino da campo stanco come un legno il giorno di natale bevero alla salute romolo disse a vincenzo io che sono stato un maestro di vino e di bestemmie ti ringrazio per il regalo che mi hai fatto della tua amicizia ma il giorno dopo romolo fuggì con il salario di vincenzo e la famigliola rimase senza soldi tempo fa ho visto vincenzo con in mano un sacchetto di frutta e io chiesto dove vai così allegro a trovare romolo in prigione dopo quello che ti ha fatto vai pure a trovarlo mi ha chiesto un po di frutta la vita è tanto buia gli voglio tendere una mano commento spesso che compie un'azione generosa si aspetta una risposta dal beneficato o addirittura dalla divinità ma l'evoluto non ama per essere riamato ama e basta perché l'amare è ormai la sua natura è insieme la sua ricompensa l'accettare questa legge troncherebbe qualsiasi polemica sulla riconoscenza